Se il governo fosse rimasto in carica, l'idea era quella di votare normalmente a marzo, oggi staremmo discutendo della legge di bilancio, una legge di bilancio nella quale si potevano mettere tutte le misure necessarie per combattere il caro bolletto in modo strutturale, per cercare di intervenire sulla cosa principale che oggi interessa agli italiani. Avremmo potuto fare tutta una serie di cose di completamento della legislatura, le dico una cosa piccola, purtroppo domenica non potranno andare a votare tanti studenti fuori sede perché con la caduta anticipata della legislatura non si è potuto completare quell'iter parlamentare. Però la guerra è guerra, in senso che così si va a votare ora, poi è caduto Draghi. L'ho capito, ma è negativo per gli italiani, perché gli italiani oggi hanno bisogno delle bollette risolte e non di una situazione così. È successo la destra che qualcuno appoggiava Draghi, qualcuno no, la pensa in maniera diversa, ora lo vedremo su tutto, su praticamente tutto. Hanno detto vabbè, però ci sono le elezioni, andiamo insieme e poi si vedrà. Poi avete detto ci sono le elezioni, dividiamoci, poi si vedrà il contrario. No, non abbiamo detto dividiamoci, abbiamo detto semplicemente c'è una via che era quella del fatto che il governo doveva intervenire per aiutare gli italiani sulle bollette. L'agenda sociale, ho sentito che prima parlavano dell'agenda sociale, il discorso del 20 luglio di Draghi è stato il discorso che ha lanciato un'agenda sociale. Lì c'era il salario minimo, c'era l'intervento fondamentale per il lavoro per i giovani, c'erano tutte le cose che il ministro Orlando aveva messo a punto e che sarebbero diventate fatto concreto. È saltato il salario minimo per colpa del fatto che Conte, Berlusconi e Salvini hanno fatto cadere il governo. Ci rendiamo conto di quanto è stata grave questa scelta? Sì, però una volta che è successo, è stata gravissima. È stato grave, è orrendo, si sono comportati male, i saggi dovevate essere voi, era partita un percorso che era partito con i Cinque Stelle che volevano aprire il Parlamento nella scatola di torno, poi Salvini. Non è andata così, ma il motivo è molto semplice, guardi, se capisci dalle cose che ha detto Conte poco fa, nel senso che Conte ha governato con chiunque in questi quattro anni, con chiunque, e alla fine c'era un problema di recuperare purezza e verginità. e quindi di andare da soli. Lo dimostra il fatto che avevamo fatto un percorso comune in Sicilia, avevamo fatto le primarie, era stato fatto un patto con 30.000 elettori che hanno partecipato alle primarie e due giorni prima di presentare alle candidature Conte ha deciso che non valeva nulla quel patto e ha fatto saltare quel patto pur di andare da solo. Chi è che vuole andare da solo? Noi o lui? Lui ha deciso di andare da solo. Cioè, la capacità di mettersi insieme che ha la destra, perché a voi manca? Allora, ecco, gli sposto la domanda. Ma non è che a noi manca. Guardi, noi abbiamo bisogno di presentare agli elettori una cosa che abbia una sua coerenza. Far cadere un governo. No, no, no. Far cadere un governo o far tenere in piedi un governo. Guardi che è come il sole e la luna. Hanno deciso di far cadere Draghi. È stata bravissima questa scelta che hanno fatto. Qua entra in campo Barbara Gallavotti, se permette. Mi dice se uno quando va a votare, quale parte del cervello utilizza? Quella razionale e valuta tutti i pro e tutti i contro, oppure quella irrazionale? Si sente parte di un'identità, di una passione, di un'onda e mette la X in quel momento? Beh, sarebbe bello se si potesse usare la parte razionale, però usare la parte razionale significa scegliere lo schieramento in cui il programma rispecchia di più le reali esigenze di chi vota e il candidato che ha più probabilità di riuscire a mantenere le promesse del programma. E questo è veramente difficile, intanto perché bisognerebbe conoscere bene tutti i programmi, bisognerebbe conoscere bene tutti i candidati e abbiamo un sistema elettorale che non ci aiuta. candidati ne possiamo scegliere fino a un certo punto. Gli schieramenti si mettono insieme, diciamo, spesso in maniera eterogenea e poi a volte si litiga prima di riuscire. E allora succede che si vota per affezione, appunto, come diceva lei prima, oppure magari adesso che andiamo vicino alle elezioni c'è quello che viene chiamato effetto carrozzone, cioè gli indecisi, soprattutto gli indecisi, tendono a volte a cercare di votare come percepiscono che voterebbe la maggioranza. Si sale sul carro dei vincitori e qua andiamo su, ci spostiamo dall'altra parte. Lei ha la sensazione che il Paese sia convinto che vinca la destra? C'è una parte consistente del Paese che si sta aggiustando su queste ipotesi. Sì, ho avuto la percezione che molti stanno cominciando a dire ma in fondo non è poi così male, in fondo potrebbe cambiare poi quando va al governo. Secondo me fanno un errore perché Meloni stessa in questi giorni gli sta spiegando cosa pensa lei veramente delle cose. Ha scelto di sostenere Orban al Parlamento europeo l'altro giorno, ha preso delle posizioni nettissime in queste ore e sta parlando con dei toni anti-europei assolutamente inattesi. Ha fatto un appello perché in Spagna crescano il partito posto franchista di Vox. Siamo andati in Spagna, Raquel Garzia. Siamo a Barcellona la scorsa domenica e lui è Santiago Abascal, uno dei uomini forti della destra europea, leader del partito spagnolo, Vox. Questa estate ad uno dei suoi comizi c'era per sostenerlo Giorgia Meloni che si augura che la sua vittoria alle prossime elezioni apra la strada ai suoi amici spagnoli. Viva Spagna! Viva Italia! Viva l'Europa de los Patriotas! Anche lui ha voluto ricambiare ai nostri micròfoni il sostenio alla candidata di Fratelli d'Italia. Ho detto che è la salvazione d'Europa. Meloni è la reazione della soberania delle nazioni europee. Viva l'Europa! Viva l'Europa! Viva l'Europa! Viva l'Europa e il significato della reazione soberana delle nazioni fredde le imposizioni globaliste e fredde le politiche che stanno a espaldas dei pochi. Sono molto contento di questa grande reazione in Italia e ho piuttosto la maggior della sua Cosa vuol dire questo? Chi è questo signore e cosa vuol dire? Questo signore è il leader di un partito che è il partito cosiddetto post-franchista spagnolo. A differenza di quello che capita in Italia, non è alleato strutturale del Partito Popolare, cioè della nostra Forza Italia, ha alcune alleanze qua e là, ma non c'è un'alleanza ancora strutturale forte. Però questo signore, l'ha detto lui molto chiaro, ha le stesse idee di Meloni su che cosa? Innanzitutto su quel concetto di Dio, Patria, Famiglia che abbiamo sentito da parte di Giorgia Meloni ripetere in molti casi. Ma che non c'è di male? Dio, Patria, Famiglia? Non c'è una parola che non suoni bene all'orecchio dell'Eretore. Ma lei sa che questo concetto, tutto insieme, espresso in quel modo, è stata la base di tanti arretramenti di diritti e di tante scelte che la nostra società oggi non può minimamente pensare di accettare. Le faccio vedere al volo, è un ragionamento che stiamo cercando di seguire. Allora, cartello 40, questi sono i conservatori riformisti europei. La Meloni dice sempre, io sono la leader dei conservatori. Allora, abbiamo preso qualcosa, Pascal di Vox l'abbiamo visto, le logarchie distruggono l'identità dell'Europa, e l'immigrazione di massa e il mezzo. Poi c'è un altro spagnolo che dice perché i gay festeggiano così tanto San Valentino. Il loro non è amore, è solo vizio. Poi abbiamo il cartello 41 dove il polacco dice la Polonia senza LGBT è più bella. Poi abbiamo un altro polacco che dice difendiamoci dell'ideologia LGBT. Queste persone non sono uguali alle persone normali. Poi abbiamo invece il bulgaro, sempre dello stesso gruppo, che dice che i gay sono più pericolosi del fumo perché diffondono l'AIDS. Abbiamo il rumeno che dice che sotto la guida della Van der Leyen l'Unione Europea sta passando dalla democrazia alla tirannia. Secondo lei è pericolosa la potenziale vittoria della Meloni? E se mi dice sì però una domanda. Beh, è assolutamente pericolosa. Abbiamo sentito queste parole. Queste parole, a queste vanno unite tutta una serie di altre cose perché c'è questo tema dei diritti sui quali è chiarissimo che c'è una differenza abissale tra quello che pensano loro e qual è, se Dio vuole, in Europa invece la linea prevalente che è una linea di rispetto, è una linea nella quale esistono le libertà individuali. Ma c'è un altro grande tema su quale se li sente questi la pensano tutti uguali a Meloni e Salvini, cioè l'ambiente. Hanno tutti votato contro qualunque misura a difesa dell'ambiente all'interno dell'Unione Europea. Si torna sempre un po' al punto di partenza. Se è così grave la potenziale vittoria della Meloni, ora è un periodo in cui non si possono mostrare i sondaggi, ma potrebbe essere che più o meno il Paese è a metà tra chi la vuole e chi non la vuole. Solo che la metà che non la vuole è divisa per tre. Potete ancora fare qualcosa o no? Beh sì, possono fare molto gli elettori italiani, possiamo fare molto noi nei prossimi giorni, perché basta che ci sia 4-5 punti che ballano dal centro-destra al centro-sinistra nei collegi uninominali decisivi e noi riusciamo a essere in grado di vincere queste elezioni. Pochi punti, perché nei collegi uninominali... Perché lei è stato criticato perché... Lo faccio un esempio. Sta dicendo possiamo perdere meno o peggio. No, 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 possiamo vincere. Le faccio un esempio. Collegio di Sesto San Giovanni, Milano. Noi abbiamo candidato l'Ele Fiano. L'Ele Fiano chi è? È un bravissimo parlamentare, ma porta anche la storia di una famiglia. Il padre è riuscito a salvarsi da Auschwitz. C'è tutta una storia molto forte. La destra lì ha candidato Isabella Rauti. Isabella Rauti. Beh? No, così. Isabella Rauti. Che problema c'è? No, ognuno può pensarla come vuole. La destra ha candidato Isabella Rauti contro l'Ele Fiano. Non per il padre, lei dice per quello che ha detto in molte occasioni. Dopodiché lì o vince Fiano o vince la Rauti. Nel senso che passa uno solo. Chi vota per altri partiti che non sono né la Rauti né Fiano, alla fine aiuta la Rauti a farcela. Perché gli altri partiti tolgono voti a Fiano. Ecco perché le dico che basta poco per riuscire a spostare. Per fermare la Meloni al sud votate 5 stelle. Al nord PD. Ma no, ma queste sono... Boh, non lo so. Non so chi l'ha detto. Non io. Io vengo dalla Campania. Guardi, vengo dalla Campania. Ho fatto una manifestazione bellissima per Luigi Bersani. Ci siamo rimessi insieme. Abbiamo ricominciato a girare il sud. Eravamo a Reggio Calabria, a Napoli. Pieno di gente. E io ho trovato grandissima disponibilità. Grandissima disponibilità. Cartello 14. L'avevamo mostrato prima al presidente Conte. E guardi, si dice attenti perché la Meloni... La Meloni è già stata ministro. Ed è stata ministro con Grillo, Tremonti, Miciche, Urso, Cota, Casellati. Andiamo avanti col BIS e le leggo la Meloni stessa. La Russa, Rotondi, Fitto, Brambilla, Rocella, Sant'Anche. Questi hanno già governato. No, non solo hanno già governato. Loro hanno portato l'Italia alla bancarotta. Io ricordo sempre, e lo ricordo a tutti noi, quel novembre del 2011, quando Berlusconi, Tremonti, la Meloni si dimisero, c'erano nelle piazze italiane, giravano con le bandiere italiane. Peggio che se avessimo vinto la Coppa del Mondo di Calcio. È stata una dimissione che hanno loro portato avanti perché il Paese l'avevano portato all'oro della bancarotta. Noi non permetteremo che riportino di nuovo l'Italia in bancarotta. È insopportabile l'idea che dopo dieci anni di sacrifici per rimettere a posto quella bancarotta di allora, del 2011, si ripresentino come se niente fosse, pronti a riportarci in bancarotta di nuovo. Ma il problema sono gli italiani che gli dicono e noi spiegheremo agli italiani nei prossimi quattro giorni quello che vogliamo fare per essere più convincenti noi. Attenzione a dire quando qualcuno è un pericolo, perché ad esempio a Palermo oggi, vedete questo filmato che può andare mentre parliamo, non serve, ecco, ci sono state contestazioni dure alla Meloni. Lei stessa aveva detto attenti, perché ogni volta che vado a parlare c'è qualcuno che minaccia, 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 prima o poi un problema succede. Però posso dire, ieri sera ero a Napoli io e avevo anch'io le mie contestazioni. C'era un gruppo di disoccupati che è venuto a contestare. Io mi sono fermato da una parte, ho incontrato una delegazione di questi contestatori. Abbiamo parlato, Questi non sono però gente che vuole parlare con la Meloni. Però c'era gente che stava contestando il mio discorso, che era gente che era lì fuori che contestava. Abbiamo parlato. Ognuno ha i suoi contestatori. Io quello che... Una delle cose che non sopporto della destra italiana, che è tipica delle destre anche europee, è il vittimismo, ogni volta essere sempre in una logica di fare le vittime per qualche cosa. Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Bisogna assumersi anche le responsabilità di quello che si fa. Giorgia Meloni non ha ancora chiesto scusa per aver postato quel video terrificante di quella donna ucraina che era stuprata e violentata a Piacenza. Non ha ancora chiesto scusa. È una cosa incredibile questa qui. Ucraina, le sa che Putin ha indetto il referendum per annettere i territori occupati. Al di là di questo, il problema è che se quella diventa Russia, ogni missile che cade in quel territorio può dare alla Russia l'opportunità formale di rispondere con le armi atomiche. Ed è molto grave quello che ha fatto Putin, ovviamente, perché è una scelta che conferma la sua volontà bellicistica. E mi faccio dire che conferma che ha fatto bene l'Italia a stare dalla parte degli aggrediti. Perché non si può oggi, nel 2022, pensare che con i carri armati si cambia un governo legittimo in carica in un altro paese e si spostano le frontiere. Questo è il peggio del peggior novecento e non si può essere ambigui su questo. Enrico Letta, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Barbara Galotti, resta con noi perché di diritti civili torniamo a parlare e ci dà un paio di indicazioni. Piccola pausa di Battista Rotondi. Quasi mezzo giorno. Grazie.